la pinacoteca di como con sede in palazzo volpi rappresenta un viaggio nel tempo nell'arte dal medioevo al novecento la sezione medievale ospita sculture da freschi che coprono un cronologico che va dalla fine del sesto al quattordicesimo secolo i materiali provengono da vari edifici della città alcuni anche scomparsi e costituiscono preziose testimonianze di un periodo particolarmente vivace e fecondo per il territorio lariano la vicenda della loro musealizzazione si protrasse per oltre un secolo a partire dalla costituzione del museo a metà del diciannovesimo secolo l'incremento più consistente si ebbe nei primi decenni di vita del museo presso la sede di palazzo giovio si segnalano gli affreschi gotici proveniente dal convento benedettino femminile di santa margherita di como la collezione di scultura alto medievale romanica e importanti rilievi un tempo caoticamente murati alle pareti dello scalone di palazzo giovio come gli stucchi romanici della chiesa di sant'abbondio la sezione ordinata secondo un percorso prevalentemente cronologico e attenta alle aggregazioni connesse alla provenienza a inizio attraverso il portale romanico della chiesa di santa margherita ed è subito introdotta da una sala didattica che documenta le tecniche di lavorazione e il riempiego dei manufatti in pietra attività che segna in modo indelebile la cultura materiale delle terre dei laghi il resto del percorso è scandito in tre fasi cronologiche l'alto medioevo i secoli undicesimo e dodicesimo ed infine i secoli tredicesimo e quattordicesimo grazie a tutti